Le dame bianche. Questa fotografia la scattai intorno alla metà degli anni Ottanta, in pieno edonismo reganiano, in quel divertimentificio che era il locale Gilda, uno dei locali più tendenza dell'epoca a Roma, dove si riunivano più o meno tutte le sere il 90% della mondanità romana. Raffigura le quattro grandi dame, le quattro prime donne che gestivano i salotti romani, Marta Marzotto, Marina Alante della Rovere, la Sandra Verusio. Sul fondo invece tutto lo sciame di manichei, di portaborse e di gente che entrava in questi locali solamente per bere e mangiare. Ma all'epoca si poteva, tutto era concesso, tutto era permesso ed era anche divertente, faceva parte del grande circo. A un certo punto arrivò questo terrorista dadaista, io così l'ho chiamato, l'ho immaginato, che lancia addosso a loro due chili di farina. La cosa divertente è che loro rimasero totalmente impassibili, continuarono a chiacchierare amovolmente tra di loro, mentre invece c'era dietro tutto uno sciame di manichei, di servi, di cose che si agitavano, si lamentavano, cercavano di cacciare questo meraviglioso artista che ha imbiancato in poche parole il monumento, ha fatto diventare un monumento queste quattro dame dei salotti romani. Con questa immagine a mio parere in qualche modo si chiude quello che è stata un po' tutta l'iconografia della dolce vita romana, anche perché qualche anno dopo finiva Craxi, finiva il socialismo e finiva tutta la grande prima repubblica. Grazie.